Per appunto andare, si stanno andando qua, per andare appunto a disinfettare la zona in cui devo bucare VINC! Sei forte! Prendiamo l'alcol e il cotone E andiamo a disinfettare la zona Meglio metterne tanto, non si sa mai Disinfettiamo bene Mi sta venendo già l'ansia Un conto se me lo fa un'altra persona il buco Ma io! Ma io! Ok, penso che si sia disinfettato abbastanza E devo andare con la penna a farmi Madone, dallo specchietto è impossibile fare questa cosa Ho fatto il puntino qui con la penna Per centrare appunto il buco E apriamo la bustina Mamma mia Eccola qua Il terrore in persona Madonna santa, io c'ho paura Ma come sei brutto Posizioniamo Ma come si mette qua? All'incontrare Mi sta venendo l'ansia Però sono ancora qui Bossa Eh Due Maria No, ma è dritto Non lo so Signoruzza mia Fammelo dritto Per favore No, non ce la faccio Tre Due Uno No, no Maria Maria L'ho messo Madonna Madonna mia Maria E ora Ma come è qui a finire? Mi sapezzò Mi sapezzò Mi sapezzò La pistola non se ne voleva andare via Cioè mi son messo in bagno con lo specchio Non se ne voleva andare via Il buco non si è fatto bene Perché il Questo qua dove c'è il brellantino E' andato Fino in fondo Però La farfallina qua Non si era agganciata Quindi Panico Panico Sentivo una leggera pressione E calore